WebHeads ora è da nove anni in Italia, il prossimo anno festeggiamo dieci anni. Però non sono qua per parlare di nostra festa, sono qua per parlare della nostra offerta sul mercato italiano. Noi abbiamo offici a Amsterdam, Londra e Madrid. Questo ovviamente per noi è un vantaggio perché purtroppo o per fortuna per noi Italia è sempre un po' indietro con le offerte e servizi sul web. Per noi è importante capire che succede là perché più o meno dentro un anno arriva anche in Italia. Questo è un vantaggio per noi ma non possiamo correre di più come sta correndo il mercato. Dobbiamo sempre cambiare o re-definire non verta locale. Per noi, ma come tutto il mercato stiamo parlando da, è un nuovo di anni di mobile advertising. Mobile advertising sicuremente è per noi importante perché ogni persona ha la sua cellulare mobili, ha non accesso su internet. Solo l'inserzionista ancora non ha instrumenti di fare un comunicazione mirata. Noi come webhats abbiamo tutti strumenti per la comunicazione sul mobile. Dobbiamo condividere insieme con i inserzionisti ma anche con i centromedia le aspettative di un comunicazione. Perché io sono sicuro, non solo webhats, ma tante agendati come webhats possono veramente deliverare un comunicazione mirata per un inserzionista con le idee chiare. Branded content sicuremente è un prodotto molto interessante. Noi come webhats abbiamo già diversi strumenti per fare questo tipo di attività. Per esempio sull'un website come starto possiamo già fare product placement. Possiamo già fare un creare engagement tramite utente e brand. Ma non solo sull'un sito come starto, ma anche su LinkedIn. Dadove webhats è il partner esclusiva per mercato italiano per il discorso di marketing solutions. Anche là offriamo tante possibilità di integrare un servizio, un prodotto di inserzionista legato a un certo tipo di target audience. Con real-time bidding siamo già attivi da un paio di mesi. Non voglio dire di anni perché un anno e mezzo fa abbiamo cambiato nostro ad server e abbiamo preso in considerazione già il futuro. Abbiamo scelto ad Nexus come ad server ma anche come piattaforma di ad exchange in real-time bidding. Real-time bidding fa paura ma non è vero. Real-time bidding è un'opportunità. Dipende molto dall'editore, dal publisher, come loro approcciano questa tipologia di buying, di spazi pubblicitari. Lì possiamo sicuramente fare consulenza e possiamo offrire tanti servizi. Dipende tutto dal publisher. Non è un discorso del mercato perché real-time bidding arriverà. Se non è oggi o domani è più un discorso per il publisher di capire la loro strategia di come vendere spazi pubblicitari. E di nuovo è un'opportunità. Non fa paura.